Per la valutcia Qua 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 200, 200, ok. No, 1-2-1, 2-0 1-3-0 Quattro a uno, vanno a mezzo. Cinco a uno. Trei. Cosa sarà? Trocala, trocala. Quattro a cinque? Trei. 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 Trei al temps. volta a tre volta a quattro volta a cinque vai a cina otto, no, ci stanno dieci, no, 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 a cinque dieci a cinque ah, è vero, è vero a cina ma anche io ho scritto dieci a sei dieci a cinque dieci a cinque ho vinto dieci a cinque no, ah, io ho scala due, fanno dieci e vai so dietro dietro a quattro, tre per me come devi io e si cinque a tre ah, beh, non cinque a tre cinque a quattro ah, ha toccato cina 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 Service pre mod My left pink.